Ma cosa avviene se mangio troppe proteine in un pasto? Quindi, facciamo un esempio, cosa avviene se mangiamo più di 30 grammi di proteine a prescindere che io sia in massa o in definizione? Ecco, è importante andarlo a comprendere perché ancora online ci sono persone che dispensano cattiva informazione e quindi è importante andare a chiarire in modo tale che poi una persona sappia effettivamente cosa andare a fare. Ora, noi abbiamo visto che sia in una fase di massa, sia in una fase di definizione, le proteine sono importanti, sì, poi dovremmo anche andare a parlare della ricomposizione corporea, però abbiamo già visto molte volte che benché si possa raggiungere, è un processo abbastanza inefficiente, nel senso che se è una persona che vuole ottenere risultati, probabilmente è meglio se ti dedichi magari prima alla massa o prima alla definizione e quindi prima ad una fase e poi all'altra, vedrai più risultati, più velocemente e sarai anche più motivato o motivata. Però, eventualmente, anche in quel caso, sicuramente le proteine sono importanti. Che cosa abbiamo visto? Che in una fase, per esempio, di definizione, le proteine sono importanti per diversi motivi, per esempio il fatto che ci danno un maggior senso di sazietà e quindi avremo meno attacchi di fame perché ci sentiremo, per l'appunto, più sazi, che non è una cosa da sottovalutare quando siamo in un deficit calorico importante. Due, che le proteine e un giusto apporto proteico ci aiutano a mantenere massa muscolare, che è la cosa che praticamente qualunque persona che sia in una fase di definizione vuole ottenere perdita di grasso al massimo e mantenimento di massa muscolare e poi il terzo punto non meno importante, ovvero l'effetto termico delle proteine. Nel senso che quando noi andiamo ad assumere 100 grammi di proteine in un giorno, per esempio, il 20% di queste proteine viene bruciato per andare ad assorbire l'altro 80%. Questa è una caratteristica unica delle proteine, in quanto, per esempio, i carboidrati hanno solo il 5% di questo effetto e i grassi hanno zero e quindi, come si capisce, le proteine sono molto interessanti. Questo è in una fase di definizione, fra l'altro non mi sono ancora presentato. Ciao, piacere, il mio nome è D'Orto Baldini, questo è il mio canale. Sono qua da lontano 2016, ho fatto più di 3000 video e tutti i miei video si sono sempre ed esclusivamente basati sulle informazioni scientifiche, quindi qui non parliamo perché qualcosa mi piaccia, perché sia sempre fatto così, perché io abbia il metodo della banana e quindi ti debba dire, guarda, è meglio fare così, nonno, e quindi andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e le andiamo a riportare nella vita di tutti i giorni e io le vado a riportare qui su YouTube in continuo aggiornamento. Fra l'altro, se non sei ancora iscritto o iscritta, magari ti conviene iscriverti perché queste informazioni qua al di fuori non te le danno e ti danno informazioni sbagliate e magari rischi poi di ottenere meno risultati. Se ti iscrivi YouTube ti consiglio a video. In una fase di massa, invece, le proteine sono comunque importanti. Perché? Perché noi quando ci alleniamo bene, andiamo ad elevare i livelli di una cosa chiamata sintesi proteica. Senza da addentrarci, semplicemente è un interruttore, diciamo così, che ci permette di mettere massa muscolare. Se gli abbiamo chiaramente dato il giusto stimolo. E se siamo idealmente in surplus calorico, quindi abbiamo abbastanza energie per sostenere questo processo. Ecco, cosa c'è da sapere? Che le proteine, durante una fase di massa, ci possono aiutare. Perché? Perché oltre a questo stimolo che noi riceviamo dall'allenamento, riusciamo ad elevare la sintesi proteica anche dalle proteine. E quindi, andando a prendere proteine, riusciamo ad avere ulteriori picchi, oltre quello dato dall'allenamento. E questa è una cosa buona, perché quando c'è la sintesi proteica, noi siamo in uno stato anabolico. Quindi riusciamo a mettere massa muscolare. Anche se, abbiamo visto come in una fase di massa, noi non vogliamo andare ad abusare di proteine. Perché? Perché siccome abbiamo detto che ci danno un maggior senso di sazietà, se ci sentiremo più sazi, è un problema. Perché molte persone mi scrivono e mi dicono Edo, ho difficoltà a mangiare. Come posso andare a fare? Ecco, se mangi tante proteine, potresti sentirti più sazio e potrebbe essere più difficile andare a mangiare il giusto apporto calorico. E fra l'altro, magari sei nuovo e non lo sai, ho messo a disposizione un calcolatore delle calorie e dei macronutrienti, quindi proteine, carboidrati e grassi, gratuito. Lo lascio qui. Basta andare a questo link qua, che è molto semplice, o comunque lo lascio giù in descrizione e nei commenti, e ti dà le calorie, stando le informazioni scientifiche, per mantenere il tuo peso corporeo. Da lì, chiaramente, riduci se vuoi perdere grasso o aumenti se vuoi mettere massa muscolare. E ti dà già il giusto apporto proteico. E quando comunque le persone mi dicono Edo, ho difficoltà a mangiare le proteine, ricordo che la strategia più semplice, dato che ad oggi ancora di integratori dimostrati non ce ne sono, è sicuramente quella di andare ad introdurre, bere le calorie. Perché è molto più semplice bere rispetto a mangiare. E in una fase di definizione, noi abbiamo visto che il quantitativo di proteine consigliate dagli studi va da 1,6 a 2,4 grammi per chilo corporeo. E noi ci spostiamo verso il margine destro, ok, più siamo definiti. Quindi una persona di 80 kg andrà ad assumere più o meno 130-190 grammi di proteine. In massa, questo range si abbassa da 1,6 a 2,2 grammi per chilo corporeo. E anche in questo caso, una persona di 80 kg andrà ad assumere più o meno 128 grammi di proteine fino a 176 grammi di proteine. Anche se noi ci ricordiamo che la cosa più importante, prima ancora dell'apporto di proteine, è l'apporto calorico. Nel senso che se non saremo in surplus calorico, difficilmente riusciremo a mettere massa muscolare. E se non saremo in deficit calorico, difficilmente perderemo grasso. Ecco, questo è importante. Però l'ammontare proteico che abbiamo detto adesso è importante insieme all'ammontare calorico. Ora, prima di proseguire con la comprensione di cosa avvenga, se andassimo a superare più di 30 grammi di proteine per pasto, ricordo che se una volta finito di vedere il video non hai nemmeno voglia di utilizzare calcolatori, utilizzare carta e penna, calcolare, andarti a trovare le informazioni tue, tutto il resto, ho due percorsi. Uno per aumento di massa muscolare, chiamato questa volta metto massa muscolare. Io, uno per la perdita di grasso, chiamato ora basta di magrimento scientifico pratico, che sono guide pratiche. Quindi tu le prendi e oggi stesso puoi partire a mettere massa muscolare dal punto di vista dell'alimentazione o a perdere grasso dal punto di vista dell'alimentazione, in quanto tutti i calcoli per tutte le possibili casistiche dal ventenne al settantenne, dall'uomo alla donna, sono già stati fatti dall'attivo al sedentario, tutte, e in più ci sono decine di pagine di esempi di diete pronte all'utilizzo, personalizzabili, senza bisogno di fare calcoli, con delle tabelle semplici che vado a fornire con un supporto email a vita, quindi non paghi una volta e poi uno ti aiuta una volta e fine, no, supporto a vita per l'aiuto nella personalizzazione qualora volessi inserire qualche alimento particolare, perché so che alcune persone vogliono inserire alimenti particolari e quindi ho messo a disposizione anche questo supporto. E chiaramente poi c'è anche il mio supporto per tutte le domande invece proprio pratiche. Quindi se una volta finito di vedere il video vorrei qualcosa di serio con cui partire oggi stesso e non dover più pensare a nulla, la pagina te la lascio giù in descrizione e nei commenti. Ora, cosa avviene quindi se vado a mangiare troppe proteine in un pasto? in una fase di definizione noi abbiamo visto che praticamente possiamo andare ad assumere il nostro quantitativo proteico per esempio riprendendo l'esempio della persona di 80 kg che dovrebbe andare ad assumere i suoi 128-190 grammi di proteine potrebbe benissimo andagli a prendere tutti in un'unica seduta quindi tutti in un unico passo e non succederebbe niente riuscirebbe comunque a mantenere massa muscolare a patto che chiaramente si continua ad allenare e quindi ci sia il giusto stimolo allenante. Anche se poi chiaramente non è detto che quella sia la strategia che una persona debba andare a preferire perché magari riuscire a stare tante ore senza mangiare e poi aspettare a mangiare tutte le proteine in un unico pasto magari molte persone non riuscirebbero a fare una rocosta di questo tipo e quindi possono benissimo andarsela a dividere però se le andassero a prendere tutte in un unico pasto più di 30 grammi di proteine più di 50 grammi non succederebbe nulla le proteine verrebbero comunque assorbite e si avrebbe comunque il mantenimento della massa muscolare se una persona si allena nel modo corretto poi tu mi potresti dire Edoma andando a mangiare tutte le proteine in un unica seduta le mie prestazioni in palestra saranno le massime saranno le migliori magari no magari allenarsi a digiuno non è proprio la scelta migliore abbiamo già visto in un altro video che se tu non hai un po' di carboidrati pre-workout il rischio di accumulare troppa fatica e quindi troppo danno muscolare che poi si ripercuote negativamente sul tuo allenamento potrebbe non essere la scelta migliore ma potresti benissimo andarlo a fare magari non massimizzi ma lo puoi fare da un punto di vista invece di aumento di massa muscolare noi cosa abbiamo visto abbiamo visto che abbiamo già in relazione della sintesi proteica con l'allenamento e l'ideale sarebbe essere in una fase anabolica quindi ottima per mettere massa muscolare andando a fare idealmente 4 pasti ora attenzione non significa che se ne vai a fare 2 o 3 non ottiene risultati per massimizzare però sembrerebbe andando a fare 4 sarebbe la scelta migliore chiaramente devi essere in surplus calorico per mettere il massimo quantitativo di massa muscolare e supponendo che una persona gli sia uscito dai propri calcoli che debba andare ad assumere 200 grammi di proteine andando a dire che dobbiamo fare almeno 4 pasti facendo la divisione otteniamo 50 grammi di proteine e qui una persona mi potrebbe dire Edo ma io ho sentito dire di non mangiarne più di 30 e ne sto assumendo 50 che devo fare? non è un problema perché? perché tutte le proteine vengono assorbite nel senso che anche se tutte le mangi 100 le proteine vengono assorbite a prescindere e poi in realtà c'è anche da dire che contrariamente a quanto spesso si pensa che se mangio troppe proteine metto grasso in realtà abbiamo visto in un altro video precedente come stando alle informazioni odierne mi sembrerebbe che andare ad avere un eccesso di proteine non vada a portare ad un accumulo di grasso quindi ad un aumento di grasso però questa è un'altra tematica ecco quindi comunque se io vado a mangiare più di 30 grammi di proteine metto grasso no le proteine vengono assorbite chiaramente devi rispettare il giusto apporto calorico giornaliero e quindi avere il giusto apporto di carboidrati e di grassi quindi non che magari rispetto alle tue calorie di mantenimento tu te ne vai a mangiare mille in più perché sono troppe non è necessario basta un piccolo surplus rispetto alle calorie di mantenimento e ora qui però tu giustamente mi chiedi Edo perché allora dicono 30 grammi di proteine e non andarne a prendere di più perché in realtà quando tu una persona va a mangiare una buona fonte proteica magari della carne del pollo della carne rossa o comunque del pesce tendenzialmente quando mangia 25-30 grammi di proteine di qualità lui ottiene un amminoacido che è praticamente un mattoncino che compone le proteine chiamato leucina in un quantitativo adeguato per innescare la sintesi proteica quella di cui parlavamo prima in quanto la leucina è l'amminoacido più importante di tutti e quindi praticamente una persona ha già innescato la sintesi proteica con i suoi 25-30 grammi di proteine perché ottiene più o meno i 2.5 grammi di leucina e quindi tendenzialmente è a posto ma non è che non ne possa mangiare di più semplicemente una volta innescata la sintesi proteica e il massimo della sintesi proteica l'abbiamo con 3 grammi di leucina poi ulteriormente non la possiamo elevare è come se fosse un interruttore tu non puoi accendere di più la luce la luce è quella una volta premuto l'interruttore si è accesa non possiamo premere continuare a premere e continuare a vedere più luce a parte lampadine magari strane però ecco quelle normali no e quindi praticamente non ci serve da un punto di vista di aumento di massa muscolare prendere più proteine rispetto a quelle necessarie ma non è un problema se le prendi semplicemente verranno utilizzate come calorie normali attenzione che però come dicevamo ci possono dare un maggior senso di sazietà in una fase di massa e quindi magari uno lo tiene in considerazione però addirittura noi abbiamo visto che stando ad alcune informazioni scientifiche non sembrerebbe che noi un eccesso di proteine venga trasformato in grasso attenzione che però se vai ad assumere alimenti vegetali o vegani o alimenti non vegani o vegetariani come per esempio lo yogurt greco questi alimenti spesso hanno poca leucina e quindi assicurati di prendere il giusto quantitativo di leucina e in linea generale quando si mangiano alimenti che magari in termini di leucina sono un po poveri o comunque sono poveri di proteine una buona cosa è aumentare il quantitativo proteico del 20% quindi se tu normalmente se fossi onnivoro dovresti andare a assumere 100-200 grammi di proteine giornaliere tu ne passi a 120-240 grammi di proteine giornaliere in questo modo si assicuri in ogni passo di avere statisticamente il giusto apporto di leucina per la sintesi proteica io anche il mio lavoro oggi l'ho fatto se vuoi smettere di pensare a tutte queste cose avere già tutto pronto oggi stesso parti con la tua alimentazione per la massa o per la perdita di grasso mantenendo massa muscolare ho la guida questa volta metto massa muscolare io che ti aiuta anche qualora volessi optare per la ricomposizione corporea quindi ottenere massa muscolare e perdere grasso contemporaneamente ho la guida ora basta di maglimento scientifico pratico entrambe sono guide pratiche non teoriche niente teoria tu prendi e oggi stesso parti con tutti i calcoli già fatti quindi non devi utilizzare calcolatori carta e penna niente già tutto fatto io ci sono decine di pagine di esempi di diete che ti dicono proprio a pranzo mangia questo a cena mangia questo a colazione mangia questo a spuntino mangia questo tutto però personalizzabile per onnivori vegani e vegetariani grazie a delle tabelle che ti vado a fornire semplicissimo oltre a ciò hai un supporto attenzione a vita tu paghi una cifra ridicola meno di quanto ti farebbe pagare un nutrizionista là fuori che poi non sa nemmeno come farti mangiare se sei una persona sportiva e hai un supporto a vita che ti aiuta nella personalizzazione di tutti gli alimenti che magari vuoi andare ad introdurre hai il mio supporto a vita per tutte le domande pratiche sul campo qualora avessi un dubbio io la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti a questi percorsi qua ci puoi abbinare sia all'allenamento che all'integrazione qualora volessi per qualsiasi domanda se mi hai percorso siccome funzionasse scrivi a questo email qua a questo whatsapp qui risponderà Alessandro Maddalena a tutte le domande del caso quindi fatele toglietevi tutti i dubbi e poi ci vediamo all'interno noi come sempre ci vediamo tutti i giorni all'una sempre su questo canale ciao a tutti peace